Che felice che sono, sono felicissima. La mia esperienza di oggi è stata un'esperienza arricchente, un'esperienza che non mi aspettavo e un regalo grandissimo che voi avete fatto a noi, mettendoci tutti insieme per confrontarci. Per me il master che ho fatto di Marino Snaghi, il coaching per coaching, è stato un'esperienza, perché non è semplicemente imparare una tecnica, imparare a fare cose che poi ti servono magari per la professione, ma è veramente fare un lavoro bello, profondo, che poi mi sono portato dietro in tanti altri ambiti della mia vita. È stata un'esperienza veramente molto utile, formativa, aperta a veramente finestre indescrivibili su quelle che sono le potenzialità che hanno le persone per raggiungere quelli che sono i propri desideri, ma soprattutto mettere in pratica quelli che sono i sogni che hanno. Questo vuol dire cambiare la loro vita. Mi ha permesso di crescere personalmente attraverso la crescita e l'apprendimento degli altri e questo proprio sia forse il miglior regalo che questa scuola mi abbia stato. La riscoperta della potenza del coaching, la profondità a cui si può arrivare anche con una sessione molto breve, è il piacere di rivedere tanti colleghi con cui ho fatto il corso e soprattutto gli insegnanti della scuola di Marina che mi hanno formato e di cui ho un grande ricordo. La voglia di continuare il viaggio, il percorso del coaching affrontato dalla scuola di Marina. La voglia di continuare il viaggio, il percorso del coaching affrontato dalla scuola di Marina. La voglia di continuare il viaggio, il percorso del coaching affrontato dalla scuola di Marina. La voglia di continuare il viaggio, il percorso del coaching affrontato dalla scuola di Marina. La voglia di continuare il viaggio, il percorso della scuola di Marina.